Vittorio, ecco la buona amica, ho a che fare io tutti i giorni. Io la difendo. Io la faccio cacciare a pedate, faccio una cosa, faccio un'interrogazione e faccio un altro ispettivo. Ma non è tolleriva, questo è solo un deposito, voi che dovete avere paura di una che fa un errore grave contro le istituzioni. Siamo una regione autonoma, una bellissima città, abbiamo i quadri in deposito. Dovete vergognarvi, voi gli dà ragione a questa, questa non sa quello che fa. E siccome io ho fatto il sottosegretario, so benissimo che la sovrintendenza ha dei doveri, ma non dei diritti di prepotenza sulla proprietà di un comune. Quel deposito chiuso è una vergogna per le istituzioni e per lei soprattutto. Se vuoi difendere, la difende. Non è tollerabile, non è tollerabile, non sono qui. Poi dico, dal deposito si chiama deposito per tirare fuori, non le vuoi mettere al castello, le metti almeno qui. Quindi tu sei stato un ragazzo tivino, sarei un democrazio. Comunque non si può vedere, la mostra è bella, bellissima. Vabbè, detto questo c'è una cipendica, tu devi tirar fuori i coglioni, cipendica. Guarda, mi sto anche disseminando. Ah invece sai che la facciamo? Dobbiamo andare avanti con quella cosa del... Dopo chiamiamo il sindaco di Gorizia. Tu chi sei? Ecco a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.